pronti per un nuovo viaggio sonoro con lorenzo speed questa la dedichiamo subito al gabri il fuco del re tendendoli per denaro sellate il suo cavallo dalla bianca criniera sellatela il suo pony cavalcherà fino a londra stasera ad implorare per giovi giordino nubo mai neppure per me un frutto un fiore il raro rubo sei cervi nel palco del re vendendoli per denaro salvate le sue labbra salvate il suo sorriso non avventarmi ancora cadrà l'inverno anche sopra il suo viso potrete impiccare l'alora nel cuore degli inglesi nello scettro del re giordi potranno salvare anche se piangeranno con te la legge non può cambiare così lo impiccheranno con una corda d'oro e un privilegio raro rubo sei cervi nel palco del re vendendoli per denaro per la rubrica flashback con lorenzo speed il disco vecchio e il disco nuovo noi vi facciamo conoscere la storia della musica rivisitate in chiave elettronica senti qua poi ci direte qual è la vostra versione preferita la nuova o la vecchia la vecchia la nuova la musica è sempre buona con una corda d'oro è un privilegio raro rubò sei cervi nel palco del re vendendoli per denaro arriva anche la richiesta per mario di rovigo rovigo c'è nonno piero gli amici di bozaro gli amici di villa marzana frattapolesi dai che andiamo non ci ferma nessuno una volta ho fatto una serata in un locale si chiamava il convento presso michelangelo da vinci airplanes era il 2002 me la ricordo ancora 4 maggio 2002 con luca morris ed altri amici della musica e manuel dovrei avere anche il cd da qualche parte una volta si registravano i cd audio ve li ricordate i cd audio ciao sono mario da rovigo ciao lorenzo vorrei sentire barbigo degli agua grande grande mario dai che ci date la carica torniamo al 1997 quando esordito in una discoteca per me sempre nel cuore il nord est di caldonio e quel disco era la hit mondiale del momento gli acqua gruppo scandinavo gruppo del nord europa è arrivato anche nea di caltana santa maria di sala presente nea da caltana che è una frazione del ridente paese di santa maria di sala smds ciao lorenzo vai 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 e non fermarti mai ok dai facciamo il possibile voi dateci il vostro carburante con il vostro supporto energetico via whatsapp e telegram al 349 7267 647 è arrivato anche davide di villa berla facciamo l'appello è tutto più bello VAMONO Vieni a tutti dai dai molleggiati non come il molleggiato adriano celentano ma bensì come chi amava gli anni 90 la musica che incanta ciao sono Mario da Rodigo ciao Lorenzo vorrei sentire Barbie Girl degli Agua grazie acqua 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 terra fuoco spazio musica vento energia adrenalina eccola Mario questo è per te vai Mario ciao ciao salutiamo allora il ddv davide di villa verla che dice buona trasmissione lorenzo un saluto a coloro che ci ascoltano e tanti saluti da villa verla a verla villa in provincia di vicenza tendenza potenza lui è davide è sempre presente ciao davide ciao come barbie let's go party ah 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 come barbie let's go party make me walk make me talk do whatever you please i can act like a star i can bear go my knees you're my doll rock and roll feel the glamour in pink kiss me here touch me there hangy bene questa era per Mario adesso ne arriva un'altra vediamo se qualcuno di voi la riconosce può mandare titolo autore via whatsapp e o telegrama al 349 7267 647 siamo con voi qui per voi forza e coraggio avanti tutta ciao Lorenzo sono per strada un abbraccio arrivo salutiamo anche Alberto alias Kins e Casalserugo presente ciao 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 l'anna maria di dosson di casier treviso anche lei sempre presente ha detto che entrambe le versioni proposte sia quella di gabri ponte in versione remix di giordi fabrizio de andrea richiesta per voi dal nostro amico gabri il fuco di romano de zellino ha detto che entrambe le versioni secondo lei sono belle ognuna la sua caratteristica ora balliamo dice esatto balliamo sullo spazio infinito della musica e tra poco arriva anche uno dei miei dischi preferiti degli anni 90 ve lo dedico con il cuore lo dedico ai miei amici sudamericani in questo caso del paese ecuadoregno appunto dell'equador e allora il viaggio nella musica il viaggio nel cosmo il viaggio all'interno del pianeta continua con lorenzo speed www.lorenzo speed.it www.youtube.com slash lorenzo speed aspetto i vostri contributi via telegram e o whatsapp al 349 7267 647 massimo massimo ma massimo il A presto, a presto. dai dai che ci scateniamo dai che ci scateniamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti